Apro ufficialmente ad Andrea il nuovo Urban Center, uno spazio, un contenitore di idee e progetti per la città. Questo fondamentalmente nasce come intuizione durante l'ultima campagna elettorale, tant'è che la creazione di un Urban Center faceva parte del programma della lista Andrea Nuova. Fortunatamente siamo riusciti a trovare in questo percorso dei sodalizi, delle associazioni che condividono fondamentalmente la stessa visione del mondo, nel nostro piccolo la stessa visione della nostra città. Immagino che il Quid Pluris sia dato dal fatto che diverse associazioni con diverse componenti e diverse persone, ognuna con il proprio passato, le proprie intuizioni e la propria prospettiva per il futuro, possa effettivamente contribuire a creare un progetto per un Andrea Nuova, sotto tutti i punti di vista, da quello urbanistico, sociale, culturale, politico. È un semplice contenitore, quindi non abbiamo bisogno di strutture di grandi dimensioni o strutture stupefacenti, di archistaro o chissà cosa, ma di un luogo come questo, semplicissimo, quasi un sottano direi, che però con un po' di creatività, con un po' di voglia di realizzare qualcosa di bello e di diverso, e con poco soprattutto, perché il tema principale di questa iniziativa è stato sicuramente la terra, ma utilizzare la terra per la sua ricchezza allo stato diciamo puro. Infatti abbiamo utilizzato le materie prime che ritroviamo ovunque, che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi e che magari sottovalutiamo, ma è che non ci rendiamo conto che ci danno un dono prezioso a tutti quanti nella vita quotidiana.